Secondo me analizzate le partite ad occhio, sì va bene, ma analizziamole concretamente, noi abbiamo dei dati veri. Secondo me la squadra ha difeso alcuni tratti male, nel senso nelle scelte che andava a fare e nel lavorare un pochino meglio sulle traiettorie, ma ha creato anche tanto a livello offensivo, poteva chiudere la partita, non l'ha fatto e questo è un nostro demerito. È ovvio che il risultato, giustamente, porta e ci porta e ci fa ragionare in un modo perché sono il primo ad essere veramente incazzato. Perché quest'anno ci manca quello che ti dicevo prima, quando difendiamo dobbiamo difendere più da squadra. L'abbiamo fatto, abbiamo preso il primo gol che eravamo sotto palla, leggere meglio determinate situazioni, leggere meglio le traiettorie di palla, sono tutti concetti calcistici dove ci lavoriamo, ma se non leggi un attimino prima rischi quello che abbiamo rischiato noi. Però dire che siamo a terra fisicamente, secondo me, domani leggiamo i dati insieme, li portiamo insieme, e vediamo se la squadra è veramente così a terra. Mi sembra un po', si va a trovare quello che non esiste in giro adesso. Grazie. Grazie. Grazie.